Le varianti diciamo quella con la quale noi avremo a che fare nei prossimi giorni sarà la variante inglese perché le altre fortunatamente sono ancora estremamente bassi come numero, anche la nigeriana insomma è una variante che è stata isolata qui a Napoli però non ci sono altre evidenze o altre segnalazioni di queste varianti. La variante inglese è una variante che come tutte le varianti emerge per le mutazioni che vengono indotte nel patrimonio genico del virus e che determinano chiaramente delle modifiche delle proteine ma soprattutto la proteina spike che è quella che aggancia la cellula umana. Attualmente le evidenze sono che da un punto di vista clinico la variante inglese è uguale al virus non mutato quindi non è più grave, è sicuramente più trasmissibile, più contagiosa il che vuol dire che probabilmente avremo, anche per questo avremo questo incremento di numero e probabilmente raggiungerà un po' più facilmente le fasce deboli, i pazienti fragili e questo potrebbe indurre dei quadri clinici un po' più preoccupanti. Però sappiamo anche, ormai è accertato, che il vaccino che abbiamo fatto, Moderna, Pfizer ma anche AstraZeneca proteggono dalla variante inglese quindi queste notizie ci tranquillizzano molto. Anticipato il prossimo tema perché diverse persone ci hanno contattato proprio per chiederci questo c'è preoccupazione, il rapporto vaccini-varianti, lei comunque consiglia di vaccinarsi perché questi vaccini servono comunque? Assolutamente, non c'è un pradidubbio. Il vaccino è l'unica arma anche per fermare le varianti perché sappiamo che se non vacciniamo con una certa rapidità e non vacciniamo con una certa intensità tutta la popolazione è molto più facile che le varianti emergono perché la pressione selettiva che viene data dal vaccino sul virus non mutato selezionerà sempre più varianti. Quindi non c'è dubbio che vanno fatti i vaccini, qualsiasi sia il vaccino che viene offerto al cittadino perché sono tutti i vaccini che danno immunità rispetto alla variante inglese e lì dove non ci dovesse essere un'immunità, parliamo ovviamente di vaccini che hanno l'80% di attività all'AstraZeneca quindi una percentuale molto alta nell'ampio paesaggio dei vaccini c'è comunque una forte probabilità che la clinica sarà estremamente più sfumata, sarà sicuramente più attenuata quindi non c'è dubbio che dobbiamo vaccinarci con una certa rapidità e con una certa velocità.